La lezione con l'argomento è lavoro dentro la ragione e sopra la ragione, Rav. Noi dobbiamo costruire vasi, Kelim, per la rivedazione del mondo spirituale, ossia costruire nuove connessioni tra di noi, nelle quali possiamo rivelare il Creatore, per dargli un posto per rivelarsi, per dargli soddisfazione. Questi stessi vasi si chiamano sopra la ragione, il livello di binà, il livello di d'azione, l'intenzione di dare connessioni, che sono connessioni speciali, dove per poter permetterci di farlo c'è stata una preparazione molto grande in quella che è stata la creazione dei mondi, che è l'occultamento graduale dal mondo di Ensov fino ad un livello nel quale la creatura può esistere e la rottura dei vasi, la rottura dell'anima e la preparazione per la sua correzione, il suo tikkun. La caduta e l'ordine tra i vasi che sono rotti è un ordine speciale, è il principio di questa correzione, dove entrano in una certa connessione tra di loro a livello materiale, ossia con l'intenzione di ricevere dentro la ragione e sotto la ragione e noi dobbiamo elevare noi stessi al livello che è sopra la ragione, dove tutte le nostre connessioni, tutte le nostre connessioni che non siano in accordo a quello che è il metodo o la natura dello stesso desiderio di ricevere, ma secondo quello che è il desiderio di dare. E questo in realtà è il nostro lavoro e per questo non rompiamo le connessioni che ci sono nel desiderio di ricevere, ma giustamente prendiamo da questo un esempio ogni volta di quello che si chiama la linea di sinistra e sopra di questa costruiamo la sua forma opposta, che è la linea di destra, che è il desiderio di dare. Ossia che non ci può essere nessun livello dove non si riveli l'odio, l'allontanamento e l'ego in ogni tipo di forma e che noi costruiamo a partire da questo il lato di destra, la connessione, l'amore, l'avvicinamento, la corrispondenza tra di noi, così come è scritto che tutti i delitti siano coperti dall'amore. Se non c'è delitto non c'è umore, ma ci devono essere entrambi insieme, l'uno e l'altro, la destra e la sinistra, che si deve rivelare quella che è la mancanza che c'è nella sinistra e dopo a partire da questa stessa mancanza si deve capire cos'è che deve essere il suo contrario, perché il dominio della luce è sull'oscurità e costruire la destra, la connessione, che sia la connessione corretta. E questa connessione non è in noi, noi non sappiamo cos'è esattamente. Possiamo parlarne però, veramente non c'è preparazione, non c'è niente di niente e quindi dobbiamo andare dietro quelli che sono i consigli dei cabalisti, le cose che loro ci dicono e ci raccontano. E unicamente in questa maniera potremo costruire nuove connessioni tra di noi, che si chiamano spirituali. Perché? Perché quindi in questo tipo di connessioni, nell'essenza di queste connessioni, riveliamo la forza di d'azione, la forza dell'amore, la forza che si chiama il creatore. Questo è in essenza il nostro lavoro e quello che cerchiamo di fare è di impararlo e di studiarlo. Semplicemente dobbiamo capire che lo studio deve essere una preparazione per l'azione e ogni volta vedere come siamo incapaci nemmeno di renderci conto in paragone alla situazione che abbiamo in questo momento tra di noi e come possiamo costruire, formare una connessione ad un livello che sia diverso, che sia in una natura diversa, dove veramente lì non ci sia nessuna, nessuna forma del desiderio che ho nel giorno di oggi, che il giorno di oggi mi riempie e quello che oggi mi governa. Ma che sia un desiderio di dare. E cos'è un desiderio di dare? Non lo so. Però veramente quanto mi giro me stesso ogni volta scopro solo il desiderio di ricevere. E quello che dicono è che si ha bisogno qui di fare un'azione molto semplice che anche in realtà si trova a nostra portata, che è fai la tua volontà come la sua, che se cerchi di prendere il desiderio del prossimo e di farlo governare su te stesso, che questo desiderio sia più grande, più importante del tuo proprio desiderio, e che nonostante che questo stesso desiderio sia l'opposto al tuo, che questo pensiero che prendi da lui sia anche contrario del pensiero tuo, allora capirai cosa vuol dire sostituire uno con l'altro. Quanto è possibile? E giustamente che a parte di questo puoi dirigerti al gruppo, alla società, e al creatore, al maestro, ossia in totale in questa maniera tu potrai sovrapporti a te stesso e poter capire cosa si chiama di andare sopra la tua ragione, sopra della tua mente e della tua sensazione, che tanto la tua sensazione come la tua mente rimangano come sono e che anche acquisisci una mente e una sensazione del prossimo. Il prossimo in realtà è il gruppo, che tu vai dietro loro in realtà con gli occhi chiusi, che non puoi esaminare, non puoi valorizzare, non puoi fare qui nessun tipo di paragone tra quello che tu hai, tra quello che loro hanno, è anche proibito che questo si faccia, perché questo corromperà quella che è la postura per la costruzione di un CLI che sia nuovo, ma che semplicemente, così come ci spiegano, che se hai una sedia e l'altro non ha una sedia, gliela devi dare, ossia in sintesi quello che noi dobbiamo è capire che il desiderio del prossimo, il desiderio del gruppo che determini tutte le mie azioni, che io unicamente utilizzo il mio corpo come se fosse una macchina, però dentro questa macchina si trova il desiderio del gruppo. Così, in questa maniera, è come progrediamo, fino a che io scopro che è il desiderio del creatore e che lui si trova in me e che io a partire dalle azioni che realizzo inizio a conoscere lui, che per le tue azioni ti conosciamo e dove sono le azioni del creatore in me? Se io gli do un posto perché governi su di me in accordo alla mia propria libera scelta, allora rivelo a partire da queste stesse azioni la sua natura, in accordo al suo carattere, se così si può dire, il suo piano, la sua attitudine e così, in questa maniera, io mi converto in simile a lui, che arrivo all'adesione, dove il creatore si veste dentro della creatura. Questo è il cammino e abbiamo bisogno di iniziare a entrare dentro di lui, dentro di questo, in una maniera molto più intensa e pratica e speriamo che perlomeno mezzo passo, il primo mezzo passo l'abbiamo fatto.